Grazie E' tutto bello, è tutto bello, è tutto bello. Io non voglio vendere, questa è la mia famiglia, però mi fanno una cosa, questa è la mia E' un calore, è il calore, sono noi miei figli, io sono qui, io sono bifoote, ovviamente i diri mi avete visto Comunque, si, uscirà un video dove si vedono i video, vedono i video, vedono i video, Chiesa ha scritto, festa dei mostri, ma non so cosa è festa, festa dei mostri, ci hanno invitati, a che festa? Ha detto, 84, 84 ha detto, 84, si, ha detto il numero 84, 84, io 84, e dov'è il quattro numero 84? Si, c'è lo scelgo, c'è il cassano, si, si, vai più all'oceano, si, c'è il cinema, vai più qua. e poi non lo so dove se la trovo vabbè ma sto a cazzare e lo mettono tutte così per favore poi e poi venne a Nicola vennero dai tuoi cattoli noi veniamo dai tuoi ma lo so vennero da sola a casa e robe, robe, robe e pop beh, robe, robe, robe e pop e cosa senti male da robe, 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 robe e pop e videogiochi e poi si può creare un videogioco ma quanto farei con un film oh si 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 il 21 il primo il primo gennaio primo gennaio 2021 faremo un film ma questo film non uscirà al cinema quindi dite sbagliato non è al cinema uscirà verso la pefania e non uscirà ne dico uscirà ne vede in televisione uscirà su youtube questo film dove ci saremo noi e altri personaggi e faremo delle feste e basta non voglio ho già spoilerato assai del film non voglio spoilerare altro non voglio spoilerare altro sì ma secondo voi ed insieme cosa stanno facendo beh non lo so li guida solo ovviamente porteremo rotte click se porteremo rotte click ovviamente i protagonisti di questo noi i protagonisti di youtube sono sono io no no la zucca e io sì siamo i protagonisti quello che si usa no ci usa solo non è il protagonisti da lui noi siamo i protagonisti ma perché non ci devo stare io non è il tuo migliore fratello non ci è la zucca il mio migliore fratello e la voglio te dai facciamo io ma via dico papà 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 tu e lì 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 ma tu ho troppo sono due e lì papà 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 Ma quello non era solo carta, non era solo carta. Faremmo un video dove sapete il periodo di Halloween, quindi ci saranno tutti i video di Halloween e il nostro quello che si muove ve li vedrà perché ad Halloween potremmo andare a fare tutto il scherzetto, ma la dovete usare, è obbligo. Non spero, ma spero che ci divertiremo ad Halloween.